L'azienda ospedaliera universitaria di Sassari sarà in prima linea per la vaccinazione dei cittadini di nazionalità ucraina che sono arrivati negli ultimi giorni nel sassarese. Il centro Covid-19 di Viale San Pietro è stato allestito per accogliere le persone provenienti dalle zone di guerra per la somministrazione delle dosi vaccinali. Siamo pronti a somministrare ai profughi ucraini le dosi di vaccino anti-Covid secondo quanto disposto dalla regione e seguendo l'indicazione delle autorità competenti, lo ha affermato Antonio Lorenzo Spano, il direttore generale della U Sassarese. Nell'ambito dell'emergenza connessa al conflitto in Ucraina e in previsione dell'aumento del flusso migratorio delle prossime settimane, sono stati attivati dei meccanismi di coordinamento a livello nazionale e regionale. La U di Sassari, aggiunge Antonio Lorenzo Spano, assicura la più ampia collaborazione per fornire supporto sanitario nell'ambito del coordinamento regionale che è stato messo in campo per le grandi emergenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.